Come avevamo cominciato Giuseppe la scorsa puntata? No panic, no panic assolutamente perché nell'occasione la Triestina aveva recuperato quattro punti in due partite al Pordenone e si era portata a meno 6. Dopo questa invece ultima domenica è bastato un pareggio al Pordenone per riportare il vantaggio a 7 punti a sole 5 giornate dal termine. Allora diciamo questo un buon pareggio quello del Pordenone e per il Pordenone una buona sconfitta quella dell'Unione a Imola. 7 punti di distacco a 5 partite dalla fine. Sì Dario comincia ad essere un vantaggio importante perché come hai detto tu le partite restano 5. Io credo che Tesserra abbia le qualità per gestire questo vantaggio fino alla fine. Al Pordenone basterebbe non steccare anzi basterebbe una vittoria già nel prossimo turno per poter dire Serie B. Prossimo turno che vedrà il Pordenone impegnato a Ravenna contro quella Ravenna dei Foschi, la Iena ex tecnico del Pordenone. Come la vedi quella partita? Il Ravenna è una squadra che quest'anno ha fatto il suo dignitoso campionato. È una squadra che non lascia giocare le altre, segna poco ma subisce anche poco. 13 vittorie per il Ravenna, 10 pareggi, 10 sconfitte, 34 gol fatti e 33 subiti. Sì è una squadra ti ripeto lascia giocare poco gli avversari. Io credo che se noi andiamo a mettere sulla bilancia le due rose quella nero verde è sicuramente superiore. Sì anche perché dovrebbe rientrare Misurac e dovrebbe essere di nuovo a disposizione forse non in campo ma almeno in panchina anche Mirko Stefani. Abbiamo cominciato subito con questo argomento perché i sette punti del Pordenone di vantaggio a cinque giornate della fine sono un argomento assolutamente interessante. Però permettetemi ancora una volta di ricordare chi vi sta parlando. Giuseppe Palomba, padrone di casa, Dario Perosa e Roberto Carraro, il nostro esperto di basket per la consueta puntata di Pordenone Sport. Dicevamo del Ravenna, un Ravenna che ha pareggiato lo scorso turno a Pesaro in quello che noi potremmo definire il derby fra ex tecnici nero verdi perché sulla panchina della Visse siede Colucci. Sì Colucci che tutto sommato dai ho visto anche quando la Visse è venuta a giocare a Pordenone ha comunque nonostante i risultati deficitari ha lasciato un buon ricordo alla tifoseria nero verde. Segnaliamo anche che a Ravenna gioca un certo Nocciolini che l'anno scorso doveva essere colui che doveva portare in alto il Pordenone. Ecco non l'ha fatto lì però a Ravenna sta facendo bene perché ha dieci gol ha segnato. Sì sì ma lui è un bomber da doppia cifra forse a Pordenone non ha trovato l'ambiente giusto non si è inserito proprio negli schemi di Colucci e per cui o forse si è caricato troppo il peso della responsabilità e non è riuscito a fare quello che ha fatto a Parma e che sta facendo adesso a Ravenna. Certamente allora chiudiamo la parentesi Ravenna ricordando che all'andata il Pordenone al Bottecchia aveva vinto per due reti a una con centri nel primo tempo di De Agostini e Candellone e nella ripresa di Siani che aveva accorciato le distanze però non era riuscito il Ravenna non era riuscito portare via punti dal Bottecchia. Accenniamo un attimino anche quella che è stata la partita di domenica scorsa perché è stato uno 0 a 0 al Bottecchia con la Feralpi Salò però una partita che nonostante l'assenza di reti è stata altamente spettacolare. Sì ma lo si sapeva perché la squadra di Bolzano è sicuramente un allenatore valido tra l'altro è anche un ex giocatore. Da voi giù nel profondo sud si dice Bolzano o Bolzano? Bolzano per cui Zanetti dicevo è stato anche un ex giocatore di Tesser e proprio in conferenza stampa non sono mancati gli elogi da ambo gli allenatori. Quello che ho detto io, ho scritto io sul gazzettino è stata una partita che può essere inserita nell'antologia del calcio dimostrazione che anche un risultato in bianco può essere altamente spettacolare. Non ci dobbiamo dimenticare che il Sud Tirol è la squadra che nel girone di ritorno ha totalizzato più punti sulla scia della passata stagione infatti sta abbistando quello che aveva fatto nella passata stagione arrivando addirittura seconda in classifica se ci ricordiamo e in semifinale playoff per cui si sapeva che poteva essere un match competitivo e bello da guardare. A Ravenna mancherà Candellone squalificato, un guaio? È un guaio però io vedo che le alternative ci sono. Tesser ha sempre il coniglio dal cilindro, fa la sua forza dai calci da fermo per cui sicuramente avrà tante soluzioni. Berrettoni credo che sia in ripresa, se c'è il rientro di Misuraka è un'altra soluzione. Penso che alla fine il Pordenone può portare via punti anche da Ravenna. Cinque partite ancora al termine della stagione regolare, poi hai già preparato il pulmino per andare a Udine la prossima stagione al Dacia Arena? Eh Dario ci toccherà, purtroppo ci toccherà. Io spero che sia solo una cosa di passaggio perché spostarsi a Udine ogni volta è un po' pesantuccio per chi... Caro mio, finché non costruiscono il nuovo stadio e hai voglia, prima che lo costruiscano a Pordenone, mi sa che ci toccherà passare ogni seconda domenica o sabato a seconda di quello che sarà al di là, come dicono qui, delle laghe. Guarda se fosse di sabato ancora ancora ci andrei anche con piacere, la domenica comincia a essere un po' difficile. Va bene, parliamo un attimo anche della serie Piedì? Non va gran che bene proprio, ho detto va bene ma non va gran che bene. Adario, non è abbassata la tripletta del solito Leone Maccan, il Tamai purtroppo perde anche questa volta in casa con il campo d'Arsego, vede allungarsi la... 5 a 4 ragazzi. 5 a 4, sì, che partita? E vede allungarsi purtroppo da San Giorgen che si porta a più 5 per cui adesso in queste ultime partite bisogna vincere, non c'è niente da fare per il Tamai se vuole, centrare i play-out. Chions è solo un pareggio? Chions è solo un pareggio ma il Chions ricordiamo... Con il San Donato. Sì, comunque sta ancora in situazioni tranquille, undicesimo a 35 punti, bisogna segnalare però che nel girone di ritorno è la squadra che ha fatto meno punti. Speriamo che riesce a salvarsi già da domenica prossima. Quasi derby nel prossimo turno a Belluno fra i giallo-blu locali e il Tamai. Il Belluno è una formazione ostica sempre quando gioca in casa, però il Tamai deve fare risultato a tutti i costi, Dario se vuole, centrare i play-out. Il Chions invece riceverà l'Union Feltre? L'Union Feltre è alla portata, al Chions basterebbe un punto per essere tranquillo. Diamo largo spazio adesso a Loretti per il calcio e questa volta Loretti è addirittura andato anche oltre confine. Sì, allora c'è innanzitutto un servizio sull'eccellenza con Cordenons Fontana Fredda che ho assistito io con interviste ai mister, poi ci sarà promozione e prima categoria friulana. Poi Nazareno, come dicevi tu, è stato a Portogruaro dove ha intervistato alcuni dirigenti e l'allenatore del Portogruaro perché domenica prossima potrebbe essere promosso. Benissimo, allora in bocca al lupo agli amici veneti. Dopodiché torneremo in studio ovviamente per parlare di basket con Roberto Carraro. In eccellenza, dopo la promozione del San Luigi che ha pareggiato con il Lumignacco, si lotta per i playoff. Hanno conquistato i tre punti, il Torviscosa a Gorizia e i Ronchi con il Crass, mentre il Brian ha diviso la posta con il fiume Bannia. Si sta facendo sotto il Cordenons che con il successo sul Fontana Fredda ha mantenuto due lunghezze dalla zona nobile della graduatoria. Barbieri, tecnico del Cordenons. Intanto complimenti. Possiamo definire la vittoria più importante di questo tuo campionato qui a Cordenons? No, non sono d'accordo. Tutte le partite... A livello di classifica parliamo? A livello di classifica oggi siamo matematicamente salvi. Ma io direi che più che matematicamente salvi sei proiettato verso i playoff. Ma i playoff bisogna sempre vedere la forbice perché puoi arrivare anche quinto, puoi arrivare anche quarto. Magari non fai i playoff se il distanziale supera i sette punti. Però io ho parlato ai ragazzi martedì, chiaramente ho detto ragazzi mancano quattro partite. Salvi siamo salvi, ci manca un punto, lo faremo. Però cosa vogliamo fare? Siamo in ballo, balliamo? Balliamo. Basta, andiamo a prenderci il Torviscosa con tutti il rispetto del Torviscosa. Fra 15 giorni ce l'abbiamo qui, ce la giochiamo senza serenità. Tanto quello che viene, viene. Io devo solo ringraziare i ragazzi, devo solo dire grazie e basta. Questo è un gruppo meraviglioso. Per quanto riguarda la società, non mi vergogno a dirlo, società non ce n'è. Quindi siamo in quattro che andiamo avanti da agosto e dobbiamo fare solo, solo ringraziare queste quattro persone. Mi ci metto anch'io dentro perché tanto non ho niente da mascherare. Qui società non ce n'è, qui futuro non ce n'è. Stiamo facendo il massimo, non mi vergogno a dirlo che stiamo pagandoci l'acqua per bere, in spogliatoio. Quindi ragazzi, devo solo dire grazie e punto e basta, non posso dire altro. Bomber Serrago, tre gol, una traversa oggi. Hai fatto tutto tu praticamente? No, no. Abbiamo fatto una grandissima partita tutti insieme. Anche con Mattia, se l'altro argentino, mi capisco molto bene l'attacco. Quindi questo è di tutti e personalmente per le tre gol sono molto molto felice. Questi tre gol oggi ti permettono anche di arrivare in doppia cifra, se non sbaglio sei a 11 centri. Adesso sono in 11 e la prossima partita non la posso giocare perché sono 5 ciali. Quindi io ho sempre detto, aspetto sempre arrivare a più 10, adesso è arrivato a 11, aspetto per uno o due gol in più. Ecco, tu calcisticamente sei cresciuto a River Plate, se non sbaglio. Quali sono le differenze che hai potuto intravedere tra il calcio argentino e il calcio italiano? Anche se qui parliamo ancora di calcio dilettantistico e tu potresti sicuramente ambire anche a categorie superiori. Sì, ho fatto tutto, anche la primavera è stato in River e sempre le ho detto che il calcio argentino è più cautivo, più di corsa. Qua, in questa categoria, non ti puoi giocare tanto tanto come in Argentina, ma qua hai trovato un campionato duro e molto difficile. Moro tecnico del Fontana Fredda. Primo tempo tanta sofferenza, secondo tempo con gli innessi nuovi hai cercato di riprenderla e ti è anche quasi riuscito. Sì, tanta sofferenza anche perché la qualità degli avversari comunque era in grado anche di farti soffrire. È una squadra che comunque a livello tecnico sa far girare palla, sa stare bene in campo, ha dei buoni movimenti consolidati. Quindi non sono dei movimenti che io sto ancora cercando di trovare e farò anche fatica a trovarli da qua alla fine. Perché comunque non è una squadra come vorrei io, vorrei una squadra che gioca più palla a terra, con un po' di personalità. Invece la prima giocata è sempre una palla messa lì sperando che succeda qualcosa. E poi quando ti trovi di fronte delle squadre che sanno stare in campo, la mettono giù e giocano, tu sei sempre costretto a rincorrere, come abbiamo fatto il primo tempo. Il secondo tempo poi c'è stata una squadra che magari colpita un po' nell'orgoglio, esatto, ha cercato di reagire. E cercando di essere un pochino più propositiva ha fatto quello che magari potrebbe fare, che ancora non ha fatto secondo me. Quindi essere un pochino più padrona dei propri mezzi, avere un po' più di autostima, che ancora vedo una squadra tanto intimorita. E forse anche meno disattenzioni, anche perché diciamo che i due rigori sono arrivati proprio da episodi dove magari se si faceva più attenzione poteva andare anche meglio. Allora, soprattutto il primo, calcolando i minuti iniziali della gara, dove una squadra sta comunque cercando di leggere, diciamo, cercando di trovare la lettura della partita, anche gli avversari come si muovono, non è neanche tempo di iniziare la partita, che lì sei costretto già a ricambiare un po' il tuo atteggiamento. Il secondo rigore, non so se l'avete visto, se c'era, ma c'è stato magari un'usuberanza del nostro difensore centrale, però difficilmente... Forse in questi casi si dà anche sempre più ragione al difensore. Sì, ma io se vado a vedere una Lega Pro, una Serie B, una Serie A, un rigore così, per me non lo fischiano mai. Salto di categoria con quattro giornate in anticipo per il Fagagna. La Pro, grazie al risicato successo ottenuto con il Prata Falchi, è salita in eccellenza. Ora, spazio ai play-off. Il Vaionte, guidato da Mussoletto, terzo, a pari merito con Erodi e compagni, non è andato più in là di un pareggio con il Previs Domini, ma ha dimostrato di aver ritrovato un buon ritmo di gioco, utile per il rush finale. Meno bene sono andate le cose al Casarsa, sconfitta a sorpresa, in casa dalla Tarcentina. Giornata amara anche per il Torre. Dopo l'avaro pareggio di domenica scorsa con il Codroipo, il gruppo Viola è stato sconfitto a Gonars. La compagine, guidata da Marchina, può essere considerata una vera e propria bestia nera per i nauniani, in quanto riuscirono ad imporsi anche all'andata con identico risultato 2-1. Colpaccio sfiorato per il fanalino di coda Union Pasiano, che con il Vivai Rauscedo ha rischiato di ottenere il secondo sigillo stagionale. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio, i locali si sono fatti raggiungere nella ripresa da tela per il definitivo 2-2. Tre punti fondamentali in chiave salvezza per la San Vitesse, che ha superato in trasferta il Corva. Inutile pareggio invece tra Spalco Ordovado e Sesto Bagnarola. La divisione della posta non ha permesso alle due squadre di uscire dalla zona rossa. Giornata amara anche per il Codroipo, caduto in casa ad opera del Cammino. In prima categoria continua il duello a distanza tra Sacilese e Rive d'Arcano. I biancorossi Liventini hanno superato in casa Senquirino, mentre Trevisanato e compagni hanno battuto sul filo di lana il Coloredo. Un solo punto divide le due antagoniste, vincenti pure il Maniago Libero a Porcia e il Diana Ragogna, parità tra Union Rorai, Ceolini, Barbeano-Bannia e Martignacco-San Daniele, col paccio in chiave salvezza del Valle Noncello ad Aviano. Nella promozione veneta il Porto Guruaro batte anche il Villorba e ora è ad un passo dall'eccellenza. Cervesato e compagni potrebbero mettere la parola fine alla splendida cavalcata con due giornate in anticipo, se nel prossimo turno dovessero ottenere l'intera posta in palio a Volpago del Montello. Da rilevare che il Porto Guruaro in questa stagione non ha mai perso mettendo nel carniere 22 vittorie e 5 pareggi. Abbiamo incontrato a Summaga, nella sede della Zanini Camper, il dirigente dei Granata, Luca Traverso, il tecnico Andrea De Cecco e il capitano Stefano Favret. Luca Traverso, addetto stampa del Porto Guruaro Calcio per fare una panoramica su questa stagione che si sta prospettando veramente trionfale per voi. Infatti, se non sbaglio, non l'avete mai perso in questo campionato. Allora, intanto buongiorno a tutti. Sì, siamo una delle sei squadre rimaste dalla Serie A alla promozione imbattute in tutta Italia. Dopo ce ne sono altre andando fin giù alla terza categoria ma nei piani alti del calcio italiano siamo tra le sei imbattute. Sì, è nata trionfale facendo i debiti scongiuri, naturalmente. Ancora il campionato non è finito, tre partite alla fine. Abbiamo lo scontro diretto domenica prossima con la seconda in classifica che dopo domenica siamo a cinque punti di vantaggio. Questo è un anno che speriamo sia trionfale anche perché è il nostro anno del centenario. Quindi cento anni, Portugal è stata fondata nel 1919 come società sportiva e quest'anno festeggiamo i cento anni con tutta una serie di eventi, concerti, manifestazioni. Domenica scorsa abbiamo presentato la maglietta del centenario con il logo storico del primo anno di fondazione e quindi sì, tutto si sta incanalando nella maniera più giusta per noi. Ecco, è stata per voi, avete ricominciato praticamente da zero dopo la rinuncia della serie B, anzi della serie C, proprio per rifondare questa società. Sì, diciamo che è ripartito tutto sei anni fa con un'altra società, non quella attuale. Sono stati cinque anni fino all'anno scorso sempre di promozione e da quest'anno, o meglio da giugno 2018, c'è una nuova proprietà che fa capo al gruppo Chef Bertolini, Andrea Bertolini è il presidente di questa società e fin dal primo giorno sono cambiate le cose. È stato fatto tutto in maniera molto più professionale con un traguardo ben determinato, ben inquadrato che era quello della promozione in eccellenza. Ripeto, tre domeniche dalla fine siamo lì e siamo in orbita con gli obiettivi giusti che ci eravamo prefissi a inizio stagione. Ecco, diciamo che nel corso della stagione pur essendo una società con la prima squadra imbattuta avete cambiato il tecnico, come mai? Sono stati cambiati un paio di tecnici dall'inizio dell'anno ma noi ci teniamo molto a quella che è la nostra situazione attuale. La nostra situazione attuale vede Andrea De Cecco, nostro mister Andrea aveva iniziato la stagione da giocatore e come succede un po' anche in tantissime grandi squadre della Serie A insomma delle squadre maggiori la stima che tutti quanti avevamo nei suoi confronti e soprattutto della squadra ha fatto sì che fosse la scelta giusta e per cui ormai sono sei partite che Andrea in panchina sei partite, sei vittorie. Questo la dice lunga sulla nostra scelta che è stata fatta sicuramente giusta e quindi motivata e una grande scelta per noi. Luca ha citato appunto Andrea De Cecco che è il tecnico da sei giornate e quindi il tecnico giustamente dovrà dire la sua per quanto riguarda questa esperienza perché tu hai cominciato da giocatore qui a Portogruaro Sì, è il quarto anno che sono qui a Porto ho cominciato anche quest'anno da giocatore il più esperto della squadra purtroppo le vicissitudini hanno portato il mister precedente alle dimissioni e la società mi ha dato questa occasione visto l'importanza della squadra della società e la qualità di tutto l'ambiente l'ho presa al volo. Ecco, tu hai giocato fino a qualche mese fa e hai giocato anche in Feruli Venezia Giulia? Sì, ho giocato un po' in tutta Italia ho girato un po' anche in C ricordavamo prima che ho giocato tre anni a San Vito qui nella vicina Pordenone e sono nativo qui di Portogruaro quindi sono contento di avere concluso la carriera da calciatore con i colori Granata. Ecco, questa squadra diciamo che ormai è sulla bocca di tutti perché è riuscita ad ottenere dei risultati strepitosi per una stagione come questa mai sconfitta, se non sbaglio solo cinque pareggi tutto il resto sono vittorie. Sì, è stata è una stagione importante stiamo veramente entrando negli annali però non abbiamo fatto ancora niente perché ci aspettano altre tre finali erano nove quando sono entrato al timone della squadra adesso ne mancano tre sia per vincere questo campionato che per continuare col sogno del record stagionale. Stefano Favretta è capitano del Portogruaro anche lui ha precedenti nel vicino Friuli Venezia Giulia è giocato infatti se non sbaglio due o tre anni nella Sacilese. Sì, tre anni a Sacile è un bellissimo ricordo di quelle annate saluto tutti i tifosi della Sacilese. Ecco, però adesso il tuo compito è quello di far salire diciamo con i tuoi compagni ovviamente far salire questa squadra in eccellenza. Sì, ci stiamo provando la strada è quella buona però i giochi non sono ancora chiusi anzi domenica ci sarà uno scontro molto importante e anche le partite dopo le ultime due partite con Lovis, Spresiano e Favaro saranno determinanti non saranno facili perché sono proprio due squadre che hanno fatto perdere punti proprio alla nostra rivale Prodecco-Montello. È una squadra costruita per salire in eccellenza e quindi diciamo che state per centrare l'obiettivo. Sì, come detto prima manca poco adesso abbiamo un buon margine ma molto dipenderà dalla partita di domenica e quindi aspettiamo l'esito di questa partita e poi speriamo di festeggiare. Non me ne voglia Marco Spangaro Roberto ma l'arrivo di Marzio Longuin ha dato i suoi frutti. Sì, no la squadra non era un impegno trascendentale quello che attendeva la formazione porteronese però si è rivista una squadra più vogliosa di giocare e soprattutto di portare a casa due punti importanti è stata una vittoria semplice quella conquistata mai semplice una partita e una vittoria dopo tre sconfitte consecutive come aveva incassato la Winner Plus no? Sì, beh ripeto la Winner Plus non aveva un compito un avversario trascendentale ha vinto nettamente 79-52 ha sempre controllato la partita ha ritrovato le sue certezze soprattutto ha trovato il miglior girardo della stagione 24 punti 17 rimbalzi per il pivot che aveva fatto zero nella partita persa in casa col Sacile e poi diciamo i soliti giocatori qualcosa si è già visto del gioco di Longuin difesa ferrea infatti 52 punti subiti e poi forse un maggior coinvolgimento dei lunghi però è presto per poter diciamo come si vuol dire cantare vittoria io aspetto la squadra domenica senti ma ti faccio una domanda alla vigliacca proprio ma che sia stato a mutinamento contro Spangaro? No cioè non penso a mutinamento come ho detto precedentemente secondo me è stato fatto proprio per dare una scossa alla squadra perché la squadra ultimamente non stava giocando onestamente e le tre sconfitte sono figlie proprio di questo e quindi nessun alibi ai giocatori in questo finale di stagione ci sono due partite importanti quella di domenica da giocare con la Buena Gicodroipo al Pallacrisafulli in Pallacrisafulli che sicuramente si riempirà per una partita di cartello prima contro seconda a che ora? si giocherà alle ore 18 e chiaramente sarà una partita tutta da vedere tutta da gustare tutta da tifare anche tutta da tifare ovviamente perché poi Pordenone avrà il derby a Cordenon via Velaneda non sarà sicuramente facile portare via i due punti alla squadra di Beretta quindi e poi ci sono i playoff playoff che decideranno proprio le sorti di questa squadra diciamo torniamo alla partita di domenica diciamo che ricordiamo all'andata finì 67 63 a Codroipo tra mille polemiche sull'arbitraggio e quindi Pordenone sicuramente vorrà rifarsi e quindi questo sarà quello che succederà comunque non sarà facile perché la Buenzi Codroipo è ridice da ben 5 vittorie consecutive l'ultima 101 a 69 ha distrutto praticamente la formazione della Lanciavida Latisana Lanciavida Latisana che riceverà sabato l'Intermec Ordenons tutte e due hanno subito una sconfitta Lanciavida e anche l'Intermec che ha perso nettamente in quel di Corizia con la Dinamo che ha fatto del suo campo una fortezza quasi inespugnabile ha perso pochissime partite in questa stagione e dove sono cadute la prima e la seconda e caduta anche la terza l'Intermec diciamo che comunque è sicuramente nelle ultime sei partite ha avuto quattro vittorie e sicuramente andrà col cuore leggero alla Tisana ma la Tisana dal canto suo deve blindare quel quinto posto che attualmente occupa in chiave playoff parliamo poi dell'Umu Sacile che va riduce da tre vittorie consecutive la squadra di Andreotti andrà a far visita all'ultima in classifica la Goriziana compito facile sulla carta ovviamente per la formazione sacilese che deve vincere e deve continuare a vincere per sperare di entrare nei playoff playoff che attualmente occupano il Borra Desca ottavo e il Michelaccio San Daniele settimo che proprio in questo turno saranno di fronte e quindi punti playoff pesanti in campo Udine infine ospite della DGM andrà la Visperimbergo Visperimbergo che dopo le due sconfitte consecutive patite sui campi del Triestini andrà a cercare di blindare quel quarto posto che attualmente occupa in classifica però come dicevo insidiato da vicino dalla Dinamo Gorizia e anche dalla Tisana quindi tutte squadre che si giocano molto in questo turno è un bel campionato eh sì sicuramente Don Bosco Trieste che è ultima contro la penultima alimentaria Romance anche qui punti importanti in chiave play out passiamo passiamo ora a parlare della serie D regionale con Leviano Basket che ha conquistato con la vittoria nel derby con Rorai Grande no Caravan domenica il secondo posto appaiando la formazione del Casarsa e andrà a visita al Gonars attualmente ottavo l'ultimo posto utile attualmente lo occupa lei per quanto riguarda i play off la squadra di Stannone è in gran salute viene da quattro vittorie consecutive nove nell'ultimo nel girone di ritorno sulle dieci giocate per cui sarà un compito difficile quello del Golan di fermare l'inarrestabile marcia dell'Aviano che a detta di molti degli addetti ai lavori è sicuramente una delle formazioni favorite per il salto di categorie forse più dello stesso Casarsa concludiamo con la serie bifemminile bifemminile che ha avuto la sua prima sconfitta casalinga a opera del Custignacco frutto soprattutto della scarsa concentrazione delle ragazze porteronese che ormai sono seconde hanno blindato il secondo posto e con scarsi stimoli evidentemente non sono riusciti a giocare bene però dovranno tornare a far punti nella prossima partita a Trieste con l'ultima in classifica per prepararsi al meglio nei playoff ricordiamo che a Pordenone finì 68 a 52 perfetto e con questo è tutto grazie ancora per averci seguito fin qui e l'appuntamento è alla prossima settimana sempre con Pordenone Sport ciao